Conferenza stampa di presentazione presso l'Hotel Santa Lucia per il nuovo ASD Corigliano Calabro Calcio. Nel corso dell'incontro presentate tutte le nuove figure dello staff biancazzurro. Alla presenza di sportivi e tifosi capeggiati dagli schizzati group, il nuovo staff tecnico e societario ha presentato le linee guida e programmatiche della prossima stagione. Nel corso delle interviste ascoltiamo il presente Mauro Nuccaro, il nuovo direttore sportivo Salvatore Calaminici e il nuovo allenatore Cosimo De Feo. Oggi in modo ufficiale siamo qui riuniti per portare a conoscenza lo staff tecnico che abbiamo allestito per affrontare questo campionato di eccellenza 2018-2019. Quindi è la prima nostra uscita, ce ne saranno altre. Chiaramente con lo staff tecnico che si è rappresentato oggi diamo le linee guide per creare una squadra che sicuramente deve fare bella figura in questo campionato di eccellenza. Anche perché noi siamo una neopromossa, ci saranno squadre che sicuramente saranno allestite per vincere. Noi da neopromossa dobbiamo dire la nostra parte. Noi puntiamo ad avere un'ottima squadra. Poi chiaramente il rettangolo di gioco ci dirà se noi siamo una squadra da vertice, da medio o da bassa classifica. Che staff è stato allestito a livello societario, visto che oggi si parla di staff che andrà a comporre questo nuovo corigliano? Io insieme a Enzo Rinaldi e a Roberto Rivieri, che siamo i tre fautori di questa programmazione, di questo progetto, abbiamo allestito un programma tecnico come se fossimo una squadra professionistica. Abbiamo cercato, non con facilità ma con fatica, di trovare le pedine giuste e di metterle a punto giusto. Poi chiaramente sarà il lavoro quotidiano e giornaliero e il tempo a dirci se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Noi veramente non ci siamo mai fermati, per essere sinceri. Noi abbiamo lavorato già subito dal 30 di aprile, infatti oggi abbiamo 16 giugno, in questi 46-47 giorni, diciamo 50 che così siamo nel tempo giusto. Abbiamo lavorato giornalmente e abbiamo lottato e stiamo continuando a lottare, anche perché c'è una situazione per quanto riguarda gli impianti sportivi che non è semplice. Quindi non ci siamo mai fermati. Nello stesso tempo, mentre cercavamo di trovare delle soluzioni ottimali per gli impianti sportivi, nello stesso tempo abbiamo cercato di trovare queste pedine giuste e metterle a posto giusto. Speriamo che il nostro sacrificio, il nostro lavoro, il nostro impegno porterà dei frutti. Chiaramente il progetto che noi abbiamo portato alla stampa l'anno scorso era un progetto che doveva durare tre anni. Il primo anno è passato, abbiamo avuto forse la bravura o la fortuna di essere vincenti e noi onestamente continuiamo sulla stessa falsariga dell'anno scorso. Abbiamo cercato di limare quegli errori che abbiamo fatto, ora vediamo con il proseguo se effettivamente le cose vanno per il verso giusto. Poi come ti dicevo, noi siamo sempre una neopromossa, quindi ci andiamo a scontrare con realtà forti. Speriamo bene. Direttore sportivo, ha sposato questa causa Corigliano matricola, in eccellenza diceva il Presidente, ma con grandi ambizioni. Sì, intanto appunto volevo ringraziare la società per la fiducia che mi è stata concessa. E poi è ovvio che in una piazza così importante come Corigliano l'entusiasmo non manca. Cercheremo sicuramente di fare bene e di mettercela tutta. Il concerto con società e mister vi state rivolgendo a quello che sarà il mercato per allestire questo nuovo organigramma. Certo, siamo già al lavoro, ovviamente ancora i tempi della fede del calcio sono quelli che sono, rispettiamo il regolamento. Siamo in trattative con molti calciatori, però fino al primo luglio ovviamente non possiamo uscire con dei nomi, ma vi posso assicurare che stiamo lavorando a testa bassa e con molta dedizione. Che Corigliano sarà? Come ha detto il Presidente, noi cercheremo di fare bene, di fare un bel campionato, di far divertire la gente, di portare entusiasmo che per un po' di anni è mancato qua in una piazza così importante. Vedremo, vedremo. Una squadra divertente sicuramente sarà allestita e cercheremo appunto di fare bene. Direttore sportivo giovane ma con grande ambizioni, anche grande entusiasmo quello che si porta dietro. Certo, certo. Abbiamo fatto un po' di tutto nel calcio e venire in un paese così importante, con come dicevo prima, le ambizioni e le persone giuste, poi speriamo di allestire questa bella squadra come stiamo facendo e vedremo a fine campionato. Mister De Feo arriva da altre esperienze, cosa si porta dietro qui a Corigliano? Ma guardi, le esperienze che si fanno ti aiutano a crescere, quindi la cosa importante è che poi la conoscenza ti porta a migliorare in generale. Poi come sapete, oltre a quella che può essere la mia capacità, bisogna trovare anche dei giocatori che in questo caso ci daranno una mano a raggiungere l'obiettivo. Iniziamo a pensare che è un campionato diverso, quindi un campionato d'eccellenza è comunque diverso da una promozione. Sicuramente delle difficoltà le troveremo, troveremo squadre attrezzate con dei giocatori che scenderanno di categorie, quindi questo ci comporterà comunque a lavorare molto e a pensare di poter raggiungere qualcosa di importante, ma solo con il lavoro si può raggiungere. Ai tifosi alla piazza cosa vogliamo dire, Mester? Ma noi possiamo dire solo che ci mettiamo il massimo impegno e cercheremo, come detto prima, di sbagliare il meno possibile. Però durante l'anno sicuramente se c'è il percorso un po' tortuoso, cercheremo di trovare il meno buco possibile. Innanzitutto sono onorato che il Presidente mi dà questo incarico e non vedo l'ora di iniziare. Cosa ti aspetti da quest'annata? Cosa mi aspetto? Il Presidente sta facendo dei sacrifici a organizzare una squadra importante per portare il nostro Paese a livelli che merita. Dalla tua esperienza, ossia dal campo alla panchina, qual è il passaggio Cosimo? Anche perché è facile forse essere calciatore, meno essere allenatore. A malincuore, ho preso questa decisione con la società e sono convinto di aver fatto questa scelta, convinto di farla. Ormai ho appeso le scarpe al chiodo, come si vuol dire, e sto intraprendendo questa nuova avventura. Veramente mi ci metto con anima e corpo.